Venditalia 2024 continua, siamo allo stand di Oranfresh SRL, l'azienda siciliana presente ormai nei cinque continenti con le macchine automatiche, semi automatiche di distribuzione di sprimute d'arancia e altri frutti, ancora oggi molto ben rappresentata da Enrico Musumeci, l'export manager, buongiorno Enrico. Buongiorno, ciao Fabio, hello. E da Mario Paoluzzi, il CEO dell'azienda. Buongiorno a tutti quanti. Faremo due interviste molto rapide in italiano e inglese che avranno la loro sottotitolatura. Enrico, raccontiamo in un minuto la storia dell'azienda. La firma è nata nel 1987 con le macchine di Oranjus che abbiamo inventato in Sicilia e gradualmente abbiamo esportato in tutto il mondo e oggi abbiamo una presenza con 10.000 macchine di Oranjus Apple Juice in different format, in open top cup, sealed cup, bottles e the really last introduction that we're doing is the mug, the cup free solution. So the customers bring their own mug put on the machine and avoid the consumption of the cups. E immagino questa sia una delle novità presentate qui a Venditalia 2024 e a questo punto chiediamo al nuovo CEO quali sono le altre novità presentate in questa occasione. In realtà stiamo presentando anche una nuova macchina per sottotitolare l'appel, l'appel juice. E crediamo che l'appel juice vending macchine può essere molto interessante e molto profitabile. Inoltre posso dire che stiamo facendo un lavoro molto importante in nostra fabbrica per implementare la qualità dei nostri prodotti e soprattutto il servizio di customer service per i nostri clienti. Mario, per te è una prima edizione di Venditalia. Quali pensi di questa esibizione? Penso che è una buona esibizione per vendere, probabilmente la migliore esibizione per vendere. e la migliore esibizione per vendere, probabilmente la migliore esibizione per vendere. E abbiamo visto persone che venivano da tutto il mondo. Grazie Mario, Enrico, allora raccontiamo infine quale è l'indirizzo e-mail a cui è possibile scrivere per entrare in contatto con voi, avere qualche informazione in più in merito ai vari distributori con le varie particolarità e chissà, iniziare un rapporto commerciale con Oranfresh SRL. Assolutamente, tutte le informazioni potete trovare sul nostro sito www.oranfresh.com dove potete vedere tutti i dettagli delle nostre vendere e tutte le applicazioni che proposte per il GDO, per i supermercati e per i retail shops. L'e-mail è info.oranfresh.com e il mio e-mail è enrico.oranfresh.com Enrico, grazie, grazie a te, grazie Enrico, grazie Mario. Grazie, grazie a tutti. Thank you very much. See you everybody in Oranfresh.